voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio cari simblu ragusa un caro saluto a tutte le amiche a tutti gli amici che in questo momento ci ascoltano da denise arceri continuiamo i nostri appuntamenti dedicati alla settimana santa insieme a don mario modica ciao mario come stai innanzitutto ciao denise io sto bene saluto anche i radio ascoltatori che sono ben ritrovati a questo appuntamento oggi parleremo del giovedì santo e il giovedì santo ci prepara proprio al triduo pasquale nel tardo pomeriggio in tutte le chiese c'è la celebrazione della messa in cena domini cioè la cena del signore dove si ricorda l'istituzione dell'ecorestia e del sacerdozio ministeriale come la liturgia ci aiuta a riflettere in questo giorno la messa vespertina del giovedì santo è una liturgia del tutto particolare perché diventa una sorta di preludio di proemio possiamo dire di introduzione al triduo pasquale la celebrazione della cena del signore infatti contiene in sé tutto ciò che vivremo a partire dal venerdì e fino alla domenica di pasqua in riferimento al mistero della morte e risurrezione del signore è quasi una consegna che viene fatta alla chiesa proprio a livello celebrativo a livello liturgico perché attraverso questi riti la chiesa sempre rivive e fa sua la morte e risurrezione di gesù di fatto in ogni ocarestia noi celebriamo la pasqua quindi il significato della cena del signore è proprio questo cioè noi attraverso questo rito questa celebrazione anticipiamo in qualche modo ciò che vivremo anche in maniera cronologica in maniera più di imitazione e con i riguardi della passione morte e risurrezione di gesù possiamo prendere spunto anche da ciò che ci propone la liturgia della parola nella prima lettura ascoltiamo il libro dell'esodo la pasqua degli ebrei nella seconda lettura ascoltiamo la prima lettera di san paolo i corinzi che è proprio il tramandarsi della celebrazione eucaristica secondo il comando di gesù gesù in qualche modo nell'ultima cena ha anticipato come un rito ciò che sarebbe avvenuto da lì a poco sulla croce e i discepoli hanno compreso dopo gli eventi della pasqua il significato dell'ultima cena hanno compreso cosa volesse dire prendete questo il mio corpo bevete questo il mio sangue soltanto alla luce dell'evento della morte e risurrezione di gesù ed è quello che noi riviviamo come dicevo ogni domenico ogni giorno nella celebrazione eucaristica questo è il senso del giovedì santo come anche per gli ebrei la prima lettura che ascoltiamo è il comando di celebrare la pasqua ma in quel brano dell'esodo il comando che dio dà attraverso mose al popolo è un comando che avviene prima della liberazione dell'egitto quindi dio consegna al popolo un rito con cui ricordare la pasqua una pasqua che ancora dovranno vivere questo passaggio dalla schiavitù dell'egitto alla liberazione quindi in sé il rito contiene davvero una forza straordinaria perché grazie all'azione dello spirito santo noi davvero non soltanto ricordiamo un evento passato per gli ebrei era la pasqua il passaggio dalla schiavitù alla liberazione per noi è la pasqua di gesù non soltanto ricordiamo dicevo quell'evento passato ma lo riviviamo noi siamo immersi nuovamente in questo mistero come se avvenisse davvero in quel momento in cui celebriamo l'eucarestia il giovedì santo sono presentati accolti in ogni parrocchia gli oli benedetti dal vescovo durante la messa crismale l'olio dei catecumeni l'olio degli infermi e il santo crisma gli oli ci vengono consegnati come segno di unità e comunione e accompagnano cammino di ogni credente profondiamo il significato il valore di questo momento per ogni singola comunità la mattina del giovedì santo o anche in altro giorno diciamo della settimana santa da noi in diocesi celebriamo il giovedì mattina la messa del crisma è un momento di chiesa molto importante se andiamo alla storia il papa celebrava un'unica messa il giovedì santo in cui si commemorava l'ultima cena ma venivano anche benedetti gli oli poi nel corso dei secoli queste due celebrazioni sono state separate il significato di quella celebrazione è davvero importante per la vita della chiesa noi ci concentriamo spesso soltanto sulla benedizione e consacrazione del crisma e degli altri oli sul rinnovo delle promesse che i sacerdoti fanno nelle mani del vescovo ma in realtà non guardiamo più all'aspetto ecclesiale di quella celebrazione il fare comunità e direi proprio visto che stiamo anche vivendo il sinodo vivere questo momento come sinodalità proprio il fare chiesa il camminare insieme sì la messa del crisma anche tu dicevi epocanzi è un discorso di comunione pure quella celebrazione ma come d'altronde ogni altra celebrazione della chiesa attorno al suo vescovo è manifestazione visibile cioè si vede tutta la chiesa riunita proprio come immagine ecco riusciamo a vedere visivamente questa dimensione perché lì attorno all'altare attorno al vescovo è riunita la chiesa nella diversità dei suoi ministeri dei suoi carismi dal presbiterio quindi il ministero ordinato a tutte le dimensioni del popolo santo di dio e la messa del crisma in maniera molto più accentuata questi connotati di ecclesialità di comunità infatti anche i testi liturgici di questo giorno ad esempio il prefazio che da inizio la liturgia eucaristica mantiene questo significato prefazio dice attraverso la bocca del vescovo che dio il padre ha voluto far partecipare del sagerdozio di cristo tutti i credenti nella chiesa non soltanto alcuni tutti i credenti questo è il nostro sagerdozio battesimale quello che riceviamo nel battesimo cioè quel nostro essere abilitato ad offrire un culto con la nostra vita a dio la vostra vita ecco diventa un'offerta perenne a dio il ministero ordinato il sagerdozio dei presbiteri è un ministero che non esisterebbe se non ci fosse il sagerdozio dei fedeli quel ministero dei sagerdoti al servizio del sagerdozio dei fedeli e questo quello che celebriamo nella messa del crisma e lo facciamo anche attraverso il segno dell'olio i tre oli che servono per amministrare i sacramenti che d'altra parte sono il modo più concreto e più tangibile che nella nostra vita mettono in atto il sagerdozio di cristo cioè quel sagerdozio attraverso cui noi riceviamo la salvezza i sacramenti sono proprio il segno e l'attuazione di quella salvezza nella nostra vita e quindi c'è tutto questo grande significato nella messa del crisma nella celebrazione pomeridiana del giovedì santo la liturgia propone di accogliere nelle singole comunità parrocchiali proprio questi oli che sono stati benedetti la mattina dal vescovo è un segno di comunione come dicevi tu di unità con l'unica chiesa di cui facciamo parte che trova nella persona del vescovo il motivo anche l'immagine dell'unità della chiesa la garanzia di questa unità e quindi mentre ci apprestiamo a celebrare i giorni più importanti dell'anno liturgico e della vita della chiesa è necessario ribadire questa dimensione comunitaria fondamentale per ogni battezzato durante l'ultima cena gesù istituisce il comandamento dell'amore visibile nel segno della lavanda dei piedi un gesto che simbolo del servizio concreto che il signore ci chiede di scambiarci reciprocamente un amore dunque che si fa servizio gesù invita tutta l'umanità a donarsi a servire sentendosi tutti i fratelli e tutte sorelle in cristo cosa dovrebbe significare comprendere che veramente il valore del farsi dono per gli altri la liturgia del giovedì santo ricorda tre misteri fondamentali che tu hai già accennato poc'anzi e quindi l'istituzione dell'eucarestia il sacerdozio e infine la consegna del comandamento dell'amore della carità fraterna soprattutto questo ultimo aspetto nella liturgia del giovedì santo viene messo in evidenza dal rito della lavanda dei piedi che in realtà è un rito facoltativo potrebbe anche essere omesso ma diventa poi limitazione di ciò che abbiamo appena ascoltato nel vangelo perché il vangelo di quel giorno di quella celebrazione non è tanto l'istituzione dell'eucarestia ma il racconto dell'evangelista giovanni della lavanda dei piedi ciò che avviene dopo la cena e l'evangelista giovanni ci racconta nei minimi dettagli quei gesti e quelle parole che gesù compie dopo la cena quasi davvero incantati ed estasiati siamo da questo susseguirsi di azioni e movimenti e di dialoghi soprattutto il dialogo che gesù ha con pietro la lavanda dei piedi spesso è il momento più messo in evidenza da parte dei fedeli in quella celebrazione evidentemente anche per il carico di emotività che porta con sé però come tanti altri riti della settimana santa in cui anche la dimensione emotiva è molto evidenziata e coinvolta non può rimanere soltanto una contemplazione il sentimento di un momento che poi via vi si dimentica in realtà da lì noi apprendiamo il modo di amare quel abbassarsi di gesù inginocchiato davanti ai suoi discepoli chinato sui piedi dei suoi discepoli e immagine di quell'abbassamento che gesù ha sperimentato sia facendosi uomo ma sia soprattutto morendo sulla croce quindi quella solidarietà immensa di dio nei confronti dell'uomo fino al servizio e il servizio più grande è quello della solidarietà fino alla morte i fedeli guardando al rito della lavanda dei piedi dovrebbero anche interrogarsi sul modo di vivere le relazioni fraterne nella vita di tutti i giorni nella comunità cristiana quello è il prototipo del nostro relazionarci gli uni gli altri è il comandamento dell'amore che il signore ci lascia in quella cena la cosa bella forse qui pensiamo poco che spesso la nostra dimensione del servizio si concretizza in un donare solamente cioè a volte a noi se parliamo in termini dell'evangelo che ascoltiamo in quel giorno non viene così difficile lavare i piedi agli altri ma forse a volte è più difficile accogliere qualcuno che lava i piedi a noi quindi questa reciprocità che è una dimensione imprescindibile nel comandamento dell'amore non amate gli altri amatevi gli uni gli altri lavatevi i piedi gli uni gli altri e questa ci dice proprio la dimensione comunitaria il non poter vivere la fede e anche la vita da soli quindi essere sempre gli uni per gli altri come il signore ci ha insegnato per seguire questa strada dovrebbe aiutarci anche riflettere che l'eucharistia è un dono da mettere al centro della nostra vita e delle nostre relazioni abbiamo parlato del comandamento dell'amore ora ti chiederei un po' proprio di fare un focus sull'eucharistia come accoglienza nella nostra vita quotidiana mi piace che ti riferisci all'eucharistia come un dono un dono che però a volte nella nostra vita rimane incartato ecco a volte nello scambio di un regalo tra amici tra familiari è chiaro quella gioia nello scartare un regalo e subito utilizzarlo metterlo in evidenza a volte l'eucharistia però è un dono che rimane incartato e nella vita di tanti cristiani di tante comunità è un dono fondamentale per la vita del cristiano san paolo nella prima lettera ai corinzi di cui leggiamo uno stralcio nella celebrazione del giovedì santo evidenzia che dall'eucharistia nasce il fondamento della comunità cristiana cioè paolo in riferimento a quelle controversie a quelle divisioni che ci sono nella comunità di corinto pone l'eucharistia come non soltanto il punto di arrivo ma il punto di partenza di una comunità il dono del corpo e del sangue del signore deve essere davvero incarnato nella nostra vita e quindi vivere la nostra vita come dono nei confronti degli altri e proprio il giovedì santo la preghiera di colletta che apre la celebrazione la prima preghiera della messa ci parla di questa dimensione dice così infatti o dio che ci hai riuniti per celebrare la santa cena in cui cristo affidò alla chiesa il nuovo ed eterno sacrificio cioè l'eucharistia fa che partecipando a questo mistero noi possiamo attingere avere la pienezza della carità e della vita il nostro modo di vivere l'amore il nostro modo di vivere la vita quindi non può prescindere dalle eucaristie perché da lì veramente si promana la forza di amare la forza di vivere la nostra vita nel quotidiano la forza di essere comunità e questo è il grande insegnamento che riceviamo dal celebrare la cena del signore chiaramente riferendoci sempre al sacrificio della croce lì l'amore più grande ci è mostrato e noi nella celebrazione eucaristica lo riviviamo ma riviverlo significa anche farlo proprio nella nostra vita altrimenti la liturgia diventa un puro ritualismo una prassi da mantenere una tradizione così tanto perre ma se non avviene questo passaggio dalla liturgia alla vita forse abbiamo celebrato in vano i misteri del signore hai parlato di un passaggio concreto dalla liturgia alla vita qual è l'elemento importante in questo passaggio il passaggio dalla liturgia alla vita è una dinamica fondamentale che deve avvenire sempre nella nostra vita a maggior ragione quando celebriamo i misteri fondamentali della nostra fede come quelli che ci fa celebrare il trito pasquale nella domenica delle palme dicevamo della necessità di entrare con gesù a gerusalemme per celebrare la pasqua perché quella pasqua non sia soltanto la sua ma sia anche la nostra e questo passaggio è un passaggio che deve avvenire nel coinvolgimento di tutta la nostra persona di tutte le nostre dimensioni nella liturgia da sempre i profeti nel popolo di israele accusavano facendosi portavoci di dio del rito puramento esteriore che veniva celebrato dal popolo dai sacerdoti in particolare e diceva dio attraverso i profeti io non me ne faccio niente dei vostri sacrifici se il vostro cuore è indurito se il vostro amore per il prossimo è quasi annullato quindi ecco la corrispondenza tra ciò che celebriamo e ciò che viviamo il passaggio penso debba avvenire davvero nel cuore dell'uomo che è la sede dei sentimenti il centro della persona e quel cuore che ci viene plasmato dal signore lui che ha assunto un cuore umano la nostra capacità di amare che noi possiamo attingere dalla celebrazione dei misteri della nostra fede può accrescersi proprio nella misura in cui noi crediamo che noi possiamo amare con il cuore di dio di questo dio che si è fatto uomo in gesù cristo altrimenti davvero diventa tutto un puro ritualismo come dicevamo poc'anzi è una liturgia vuota e dei riti vuoti ma ad avere il convolgimento di tutta la nostra vita in quello che viviamo di tutto il nostro carico volte di difficoltà di sofferenze che lì vengono presentate sull'altare del signore e il signore le trasforma in dono prezioso per tutti e io ti ringrazio mario per essere stato ancora una volta con noi grazie di cuore grazie a te denise e un saluto ai radioscoltatori saluto e ringrazio a tutti i radioscoltatori e le radioscoltatrici per averci seguito a presto denise arcieri avete ascoltato voci della chiesa iblea un programma della redazione di radio caris in blu ragusa grazie a tutti grazie a tutti Grazie.